canottieri firenze sugli scudi una fantastica vittoria per questo equipaggio che ancora una volta si è dimostrato di essere più che all'altezza ragazzi ci avete creduto e sul traguardo avete conquistato la medaglia d'oro una medaglia d'oro molto combattuta ma ovviamente andiamo subito a sentire come è stata questa gara ma in partenza eravamo dietro però con un passo molto tranquillo ai mila abbiamo fatto il nostro allungo che facciamo sempre e da una barca che avevamo siamo andati una barca avanti e poi siamo arrivati in chiusura e eravamo già davanti e noi abbiamo fatto altro che vincere ma adesso ha svelato il segreto facciamo sempre l'attacco ai mille metri adesso così tutti gli avversari lo sanno invece ovviamente vogliamo sentire anche da te un parere di questa barca una barca bella una barca che vi sta dando grandi soddisfazioni ma continuerete su questa scia ma non sappiamo abbiamo le selezioni presto per la cup e sceglieremo sicuramente l'equipaggio migliore più competitivo ma questo è un buon equipaggio nonostante non siamo tra i più grossi sicuramente anzi siamo i più piccoli in gara qua ma meno muscoli ma tanta tecnica e agilità che vi hanno portato ad essere i campioni di questa prova gli obiettivi anche tuoi ma anche noi abbiamo come obiettivo la selezione per la cup speriamo di riuscire ad entrare e quello beh allora questo punto con la firenze veramente molto determinata ragazzi facciamo una cosa che non abbiamo ancora fatto in questa giornata chiudiamo tutti insieme urlando fortissimo forza firenze perché avete una super tifoseria ora noi rispondiamo così andiamo anche a registrarlo ci siamo al mio tre uno due tre forza firenze bravi ragazzi